Esaurita la fase regionale, la Rainbow Catania è pronta ad affrontare le semifinali play-off nazionali verso la Serie A2 di basket femminile. Le catanesi, negli ultimi 14 giorni, hanno lavorato intensamente in vista della doppia sfida che le opporrà alle rivali della Jolly Ackley Basket Livorno, confronto non semplice, quello con le Toscane, formazione che rappresenta un mix di tecnica e prestanza fisica a cui si aggiunge una grande carica agonistica, elementi che appaiono essere la premessa per una doppia sfida palpitante ed incerta, fino alla fine ad inquadrare il match con le Livornesi e la play-etnea Ileana Leo. Sicuramente la gara è una gara importante, molto impegnativa e quindi c'è un po' di tensione nell'aria, ma una tensione assolutamente positiva. Le ragazze si stanno impegnando, ci stiamo impegnando al massimo. Con Livorno mi aspetto una partita molto dura, è una squadra molto aggressiva, quindi sicuramente sarà una partita molto fisica. Io purtroppo a causa di un problema muscolare non so se sarò presente domenica, spero di esserci chiaramente perché sono in partite importanti. Livorno è una squadra assolutamente di livello, forte, aggressiva e speriamo di fare il massimo. Il raggiungimento delle semifinali nazionali verso la A2 era l'obiettivo minimo della stagione dell'Etnea, uno step che potrebbe lanciare la compagine catanese verso orizzonti sempre più stimolanti. L'importanza del momento è sottolineata dal presidente della Rainbow Catania, Fabio Ferlito. Bisognerà assolutamente far vedere se c'è la voglia effettiva di fare bene e di superarsi in questo incontro di andata con Livorno. Sarà altrettanto difficile poi confermarsi fuori casa, ma quello che è importante è giocare con una squadra che ha una difesa molto ma molto forte, giocare con la voglia di far bene e di superarsi. Tutto questo è semplice ma non è facile da fare, ma è così che stanno le cose. Per il match di domani il coach Bruni tiene d'occhio l'infermeria con Ferlito, Gioppe, Licciardello e le prese con alcuni acciacchi e la stessa Eleana Leo che resterà in dubbio fino all'ultimo. Palla a due prevista per domani alle 18.30 al palazzetto di San Pietro Clarenza per gara 1. Gara 2 sarà invece in programma domenica 5 maggio. A Livorno, in caso di parità nei due confronti, accederà alla finale la squadra con la miglior differenza canestri.